come già spiegato questo è il secondo video di una mini serie di 6 in cui spiegherò le 26 regole imprescindibili secondo me che ognuno ogni padrone di un cane deve conoscere queste tre regole ovvero la 6 la 7 e la 8 hanno a che vedere con la gestione dei bisognini regola 6 se il cane sporca o fa i suoi bisogni dove non volete dovete evitare categoricamente di strofinare il muso sui suoi bisogni a scopo educativo non si sa perché ma le vere tecniche educative non le conosce praticamente nessuno invece queste antiche leggende metropolitane le conoscono praticamente tutti anche se sono assolutamente inutili e dannose è una pratica assolutamente assurda in primis perché non funziona il cane non capisce perché gli state facendo quello che gli state facendo non associa la punizione che subisce con quello che ha fatto dovete sapere e ne capirete meglio più avanti quando parleremo di condizionamento e contro condizionamento che il cane associa premi e punizioni solo e soltanto se vengono somministrati nel momento esatto in cui compiono l'azione ad azione ormai conclusa il cane non associa più la punizione all'azione che aveva compiuta anche se forse nella vostra mente strofinandola sull'escremento che per voi è l'azione sbagliata dovrebbe capirlo il cane non capisce che a siccome mi sta strofinando il muso nella mia merda forse non la dovevo fare qui questa cosa è assurda e ve la dovete togliere dalla testa è una stronzata potrebbe forse funzionare una punizione solo se avvenisse nel momento esatto in cui sta compiendo l'azione ma a quel punto potrebbe bastare anche un no per interrompere l'azione sbagliata eppure non è nemmeno questa la tecnica corretta quella corretta ve la spiegherò più avanti infatti dovete sapere che alcuni consigliano di dire un no quando il cane sta facendo i propri bisogni nel posto sbagliato c'è un rischio il rischio è che il cane equivochi e pensi che voi non volete che lui faccia i propri bisogni però siccome prima o poi li dovrà fare rischierete che finirà per farli di nascosto da voi regola numero 7 se il cane sporca in casa non dovete pulire alla sua presenza infatti rischiate che lui creda che stiate coprendo le sue marcature il risultato sarebbe che la prossima volta la rifarebbe esattamente lì oppure potrebbe anche credere che sia un gioco con il medesimo risultato non voluto regola numero 8 per pulire non utilizzate detergenti acidi come può essere la candeggina o l'ammoniaca infatti questi detergenti hanno un odore che ricorda quella dell'urina e il cane tenderà per sua natura a rifare i bisogni proprio dove sente quell'odore infatti i cani utilizzano le marcature l'urina in particolare per marcare il territorio e se qualcuno di voi ha già avuto un cane in passato sa perfettamente che tendono a marcare esattamente dove c'è la marcatura di qualcun altro oltretutto questi detergenti anche se sciacquati e risciacquati abbondantemente lasciano sempre delle tracce e queste tracce di la candeggina in particolare è molto dannosa per l'epidermide del cane e per il pelo quindi il suggerimento è di pulire al massimo con acqua e aceto l'aceto ha una funzione disinfettante e grazie a tutti